Cedri del Libano, ma anche tassi, querce e cipressi. Sono stati loro i protagonisti del percorso botanico al Cimitero degli Angeli. Moltissime le persone intervenute che hanno ascoltato con attenzione le caratteristiche degli alberi che rappresentano l'infrastruttura verde che si integra perfettamente con la parte costruita del cimitero. Gli alberi che abbiamo qua al cimitero, proprio perché sono stati piantati molto tempo fa e abbiamo presenti esemplari storici che hanno quasi un secolo di vita, come questo, ad esempio, cedro del Libano che è alle nostre spalle. Sono stati pensati e piantati in queste aree con riferimenti molto forti proprio ai riti legati al culto dei morti, i cedri, i cipressi, i tassi e così via. Dopo il cedro all'ingresso, il percorso si è sviluppato attraverso i viali del cimitero, prima i cipressi, poi una tappa con un minuto di silenzio alla juola dedicata alle vittime del Covid, inaugurata lo scorso anno, per poi terminare al mausoleo, inaugurato nel 1930 in ricordo dei caduti della Grande Guerra. La troviamo anche là, appunto, quattro cedri spettacolari per le loro dimensioni, per le loro altezze e soprattutto per il fatto dell'età che hanno raggiunto, perché queste piante, considerando anche l'età di coltivazione nel vivaio, hanno circa dai 92 ai 100 anni. L'iniziativa di oggi si inserisce nella quattordicesima edizione del festival Il rumore del lutto, nato a Parma con lo scopo di portare iniziative ed eventi culturali all'interno dei cimiteri per completare le celebrazioni di commemorazione dei defunti. L'evento di oggi, per mano agli alberi custodi, ha voluto mettere in evidenza l'importante significato simbolico di queste piante. Hanno un significato simbolico e anche spirituale e poi il fatto che siamo agli angeli c'è anche questa metafora, diciamo, della vita. Noi abbiamo voluto dare importanza all'albero perché gli alberi fanno parte delle nostre esistenze, sono sempre stati presenti e quindi sono come dei guardiani del tempo che mai si ferma, mentre invece noi esseri umani, quando viviamo un lutto, quando siamo in difficoltà, abbiamo bisogno invece di fermarci per dare importanza a quello che è avvenuto. E allora ecco che l'albero con i suoi simbolismi, a partire anche dal cipresso, che è un albero simbolico tipico dei cimiteri, ma per arrivare anche al cedro del Libano, alla Quercia, eccetera, è veramente importante. Tutti gli alberi del cimitero e della città sono stati censiti da Mantua Ambiente. Con una web app Mantua Città Verde, chiunque potrà scoprire la storia e le caratteristiche delle piante cittadine.